In diretta su Sky dal circuito di Valencia si è disputata la prima storica finale di MotoGP Sport Championship, tra i migliori videogiocatori al mondo, commentata da Meda e Sanchini insieme a Favigi. Ha vinto Lorenzo Daretti, in arte T R A S T E V E R E 73. Terzo il 16enne napoletano Ivana Vella. Una finale spettacolare, un duello all'ultimo sorpasso tra due piloti, uno italiano e uno spagnolo come Dovizioso e Marquez, con il finale più bello in cui potessimo sperare. È l'italiano T R A S T E V E R E 73, nella vita reale Lorenzo Daretti, studente 18enne di Roma appassionato di moto, a vincere il primo MotoGP Sport Championship della storia, il mondiale tra i migliori videogiocatori al mondo di MotoGP 17. Sul circuito di Valencia, dopo due turni di semifinali con 16 piloti, una qualifica per la finale e un'ultima, tiratissima gara, il romano con il 58 di Simoncelli stampato sul cupolino della sua moto virtuale si porta a casa il titolo mondiale e scoppia in lacrime. È lui il primo campione del mondo di questo Electronic Sport, giocato alla Play Station sul video GEMOTOP 17. Dietro di lui lo spagnolo M M A N D Z U K I C 17, e un altro italiano, Ivana Vella, 16enne di Napoli, in arte I V A N G A M E R 2346, secondo Azzurro sul podio. A suo modo è stato un evento storico, un passo nel futuro, come lo ha definito in diretta da Guido Meda, che commentava la gara con Mauro Sanchini, e la web star Fovig, tutti entusiasti del risultato finale.